Voglio esprimere in queste ore la vicinanza politica istituzionale di amicizia e di affetto col sindaco Renato Accorinti di Messina, che è persona che apprezzo e stimo per le qualità umane, prima ancora di quelle politiche, per il momento difficile che sta vivendo, anche per una mozione di sfiducia articolata che è stata presentata nei suoi confronti. Quindi da sindaco di Napoli un abbraccio forte al sindaco di Messina con l'invito a non mollare mai.